Ecco proviamo Proviamo, livello 40 Babu, WC3, Saga Sul mio PC Sul mio computer Lenovo Proprio così E si va in scena Ecco, speriamo C'è speranza Credenza Oh no Ah si, perfetto Qua Qua si E Un'altra cosa Tutta un'altra cosa No Perfetto, ancora Qua si Certo Si Si Colpo Ermotoco Eh Oh Ah No No No, è valido Ma è valido No Valido Valido per tutti Qua si Qua si Quasi Per poco L'energia di Wimor è quasi zero Quasi Ma Ma lo spettacolo Qua Qua Ecco No No Non è valido Non ce la faccio Ecco Ultimo Non esco Un video Wilbur Peccato Non ci credo Quasi Quasi No Capito Quasi 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco... Ecco qua.